Ciao a tutti, sono Giuseppe Di Grande. Siamo arrivati a un argomento legato al trova e sostituisci che abbiamo visto nelle precedenti due lezioni. Si tratta delle ricorrenze. Le ricorrenze sono uno strumento particolare di Biblos che consente di correggere automaticamente degli elementi del testo che presumibilmente si pensa errato. Dunque, le ricorrenze, il menu per la gestione delle ricorrenze, si trova nel menu strumenti. Menù file. Andiamoci. Modif, visual, inserir, formato, strumenti, menu strumenti, sottomenu braille, sottomenu ricorrenze. Eccolo qua. Aggiungi ricorrenza punto 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 ctrl più f5. Questo è un sottomenu e queste sono le voci del sottomenu. Applica ricorrenze punto personalizza ricorrenze punto. punto 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 maius più ctrl più f5. La prima volta che si installa Biblos e che si avvia Biblos è utile per creare le ricorrenze predefinite, quelle distribuite col programma. È utile entrare qui in questa finestra di personalizzazione e il programma chiede se si vogliono creare le ricorrenze predefinite. Noi già le abbiamo qua. App personalizza ricorrenze punto 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 maius più ctrl più f5. Entriamoci. Invio sto lasciando il menu personalizzazione ricorrenze ricorrenze italiano disattivato uno di quattro. Questi sono i gruppi di ricorrenze che io ho qui nel mio computer. L'unica differenza è con quelle predefinite è questa qui. Diciamo un giochetto che ho fatto io per mio diletto diciamo così. Questa è la ricorrenza predefinite che viene distribuita col programma. Linee spezzate disattivato. Linee spezzate è la ricorrenza predefinite che viene distribuito col programma. Italiano disattivato. Linee spezzate serve a ricostruire i paragrafi e a risolvere gli eventuali spazi tra parole e punteggiatura. Noi abbiamo già accennato che proprio all'inizio nel primo tutorial abbiamo detto che i paragrafi devono essere integri. Cioè devono terminare andando a capo quando effettivamente termina il paragrafo. Cioè con un punto fermo, esclamativo, interrogativo eccetera eccetera. Comunque andare a capo quando effettivamente è necessario. Non a fine foglio così come si faceva una volta con le macchine da scrivere. Questo mai. Non fate questo. Noi abbiamo qui un testo di esempio. Abbiamo sempre i promessi sposi, stavolta l'introduzione. Leggendo così, con la sintesi vocale, non si nota quasi nulla. Quasi nulla. Invece guardando il testo a video si nota che questo testo è spostato tutto sulla sinistra o quasi sulla sinistra. Perché? Inizia a due centimetri, così come i nostri testi, margine eccetera eccetera. Ma finisce A 12 centimetri. Noi abbiamo un foglio però di 21 centimetri. E quindi perché questo testo finisce prima? Perché presumibilmente va a capo e quindi possiede dei paragrafi interrotti. Quindi dei paragrafi non integri. Andiamo a controllare se effettivamente è così. Per attivare la visualizzazione di tutti i caratteri speciali del documento o si usano le opzioni del programma o si attivano da una barra degli strumenti questo con il mouse, per chi ci vede e utilizza il mouse oppure da tastiera si può premere la combinazione di tasti CTRL SHIFT 8 La premo CTRL SHIFT 8 Ok? Paragrafo Introduzione punto punto paragrafo Introduzione punto punto paragrafo Fine punto Perché? Punto mediano Punto punto mediano C'è già qui Punto mediano C'è già qui uno spazio Il punto mediano nella visualizzazione dei caratteri speciali indica che c'è uno spazio al di sotto No? E Utilizzare i segni di interpunzione nei titoli Comunque Paragrafo Aperte virgolette punto La storia punto Si punto Può punto Veramente punto Definire punto Una punto Guerra punto Illustre punto Contro punto Il paragrafo A fine Noi abbiamo un segno di paragrafo che non dovrebbe starci Perché? Punto tempo Punto perché Punto Perché il paragrafo continua nella successiva linea E quindi il paragrafo piuttosto che terminare con un fine paragrafo dovrebbe continuare ed essere integro Cioè continuare con il testo Punto tempo Che adesso è sulla seconda linea Inoltre Aperte virgolette punto La storia Vediamo che tra Punto Punto Aperte virgolette angolari Le aperte virgolette angolari e Punto mediano L L'inizio, la prima parola, c'è Punto mediano Sempre un punto mediano Che significa che al di sotto c'è uno spazio Infatti se togliamo la visualizzazione dei caratteri speciali Questo si fa sempre con CTRL SHIFT 8 Lo faccio CTRL SHIFT 8 Ok Aperte virgolette la storia si può verabove Spazio Aperte virgolette agolari Spazio L Qui Questi segni Così Questi spazi Tra Segni di punteggiatura E parole Non vanno mai lasciati Soprattutto Quando il testo Va stampato In braille Oltre a essere Un errore Di ortografia E un errore Di Poi si Provocherebbe Un errore Di stampa in braille Perché si avrebbero spazi Inutili O meglio Non utili Tra le parole E la punteggiatura Per risolvere questo problema C'è appunto Il gruppo di ricorrenze Linee spezzate Che serve a risolvere Sia il problema Dell'integrità dei paragrafi Sia il problema Della punteggiatura Degli spazi Tra la punteggiatura E le parole Per applicare Le ricorrenze A questo testo Noi dobbiamo andare Sempre nel menu strumenti Vado di fretta Così Vado giù Finale ricorrenze Noi non dobbiamo Aggiungere la ricorrenza Ma dobbiamo Applicare il gruppo Delle ricorrenze Avrei potuto premere Anche il tasto F5 Sarebbe stata la stessa cosa Però Premo Abatto invio Qui Questo ha beneficio Utilizza il programma Col mouse Invio Sto lasciando il menu Applica ricorrenze Italiano disattivato Uno di quattro Dobbiamo attivare Le ricorrenze Da applicare A questo testo Possiamo eventualmente Attivarle tutte Però a noi In questo caso Ci interessa attivare Linee spezzate Disattivato Attivare linee spezzate Spazio attivato Ho attivato il gruppo Di ricorrenze Adesso confermo Tab ok Puzzante Premendo spazio Su ok O cliccando su ok Il programma Applicherà il gruppo Di ricorrenze linee spezzate Al testo In cui mi trovo Spazio Risultato delle ricorrenze Utilizzate Ricorrenze Non selezionato Accento Circoncetto Questo è il risultato Di quali ricorrenze Di quel gruppo Biblos Ha applicato Al testo Non ci interessa Andiamo invece A controllare il testo Escape Due Esempio Tre Punto Com'è cambiato Vuoto Introduzione Fine Punto E Intanto Vediamo che Qui Introduzione Tra il punto E E la E E non c'è più lo spazio Quindi il programma Ha corretto questo Vuoto Aperte virgolette La storia Si può veramente definire Una guerra illustre Contro il tempo Perché togliendoli di mano Gli Prima Tempo La parola tempo Iniziava Nella seconda linea Perché il paragrafo Era spezzato Quindi il testo Di questo paragrafo Era spezzato Non era integro E quindi Riportava a capo Forzatamente Tempo Che comunque È Una parola E il testo successivo È appunto È un testo Appartenente Sempre al primo Paragrafo Quindi Biblos ha Ricostruito L'integrità Di questo Paragrafo E dei restanti Del documento Andiamo a controllare Con La visualizzazione Dei caratteri speciali Ok Farà Aperte virgolette La storia Punto Si Punto Punto Veramente Punto Definire Punto Una Punto Guerra Punto Illustre Punto Contro Punto Il Punto Tempo Punto Perché Punto Togliendoli Punto Di Punto Mano Punto Nella pagina Di Visualizzazione Questo è un paragrafo Corretto Per essere stampato In braille Perché poi il programma In base alla dimensione Del foglio Penserà a Impaginarlo Nella Pagina Aperte virgolette Inoltre Vediamo che N Aperte virgolette N E la prima parola Lo spazio Quello errato È sparito Ok Le ricorrenze Servono A questo A Correggere Un uso pratico Delle ricorrenze Serve a Correggere Questi Errori Del testo Che possono Invalidare Nella nostra stampa In braille O meglio Renderla Non proprio Professionale Quindi In un click Due click Più o meno Biblos Ha corretto Questo testo Ha corretto La formattazione Di questo testo E ci ha preparato Il documento Pronto per Essere stampato In braille Anche dal Così Dal punto di vista Della formattazione Dell'integrità Dei paragrafi Ok L'ultima cosa Sulle ricorrenze Le ricorrenze Per aggiungere Una ricorrenza A un gruppo Che si può scegliere Si usa Aggiungi ricorrenza Andiamo sempre nel Menù strumenti Menù file Il comando Il comando Da utilizzare È questo qui Il tasto caldo Del controllo F5 Quindi Aggiungiamo Una ricorrenza Invio Sto lasciando In menù Nuova ricorrenza Cerca Editazione Noi vediamo qui Intanto Premendo Shift Tab Chi vede lo schermo Già Vede i campi Di questa finestra Shift Tab Ricorrenze Italiano Premendo Shift Tab Il programma Ci porta Su un campo In cui Noi possiamo Scegliere Il gruppo Di ricorrenze In cui Aggiungere La nostra Ricorrenza Che stiamo Per aggiungere Linee spezzate Braille Linee spezzate Volendolo aggiungere Qui Selezioniamo Riga spezzate Cioè Linee spezzate Linee spezzate Tab Cerca Editazione Questi campi Tab Sostituisci Con Editazione Sono Identici Ai campi Che già abbiamo visto Nel Trova E Sostituisci Ecco Perché le Ricorrenze Sono Un Ambito Un strumento Legato Al Trova E Sostituisci Perché Sono Elenchi Di Trova E Sostituzione Quello Che andiamo A fare Singolarmente Col Trova E Sostituisci Qui possiamo Organizzarlo In un elenco O in degli Elenchi Che poi Biblos Penserà Ad applicare Tutti In una Volta Ok Scriviamo Cosa Cercare Scriviamo Cosa Sostituire Abbiamo I criteri Una Versione Ridotta Rispetto A Quella Del Trova E Sostituisci Comunque Con Tutte Le Opzioni Utili Per Trova E Sostituisci Confermando Su ok Il programma Aggiunge Nel gruppo Di ricorrenze Che abbiamo Scelto La nostra Ricorrenza Che andiamo A creare E quindi La aggiunge In coda Poi ci sono Altri Altre Ci sarebbero Altre cose Da dire Sulle ricorrenze Come utilizzarla Come aggiungere Come creare Un gruppo Che cosa Significa Una priorità Tra ricorrenze Eccetera Ma questo Vi chiedo Di Controllarlo Di Leggerlo Nel Manuale Oppure Di Chiederlo Nella lista Di Biblos Ok Argomento Ricorrenze Finito Dal Prossimo Tutorial In poi Passiamo Alla Correzione Ortografica Spero Sia Stato Utile Per Scaricare Biblos Il sito www.digrande.it Biblos È il mio Software Io sono Giuseppe Di Grande Se volete Condividere Questi Video Fateli Pure Oppure Visitate La mia Pagina Youtube Che I collegamenti Li trovate Anche Nel mio Sito Dove C'è Tutto L'elenco Di Tutti I Video Che Ho Prodotto Ok Saluti Ciao Tutti